Tra le campane della discordia non ci sono solo quelle di Dolina, sequestrate dalla magistratura perché troppo rumorose in orari non conformi ai regolamenti, ma pure quelle di Basovizza e Santa Croce. Ma andiamo con ordine, il regolamento della diocesi prevede che le campane possano suonare dalle 7 del mattino alle 21 con un'unica giunta, salvo tradizioni. Una specifica su cui interviene in modo molto chiaro e votato al dialogo il vicario episcopale Don Ettore Malnati. Io direi che manteniamoci, atteniamoci a quello che è stato indicato dall'arcivescovo. Sì, in fondo c'è scritto, ecco in questo documento, ovviamente salve le tradizioni, però tradizione per tradizione che va contro il buon vivere tra la comunità religiosa e la comunità civile bisogna trovare una mediazione. Ai parroci delle frazioni carsiche però sono già arrivate altre segnalazioni di protesta anche se non organizzate in una corposa raccolte firme come nel caso di Dolina. I segnali di disagio però sono stati segnalati in più casi anche al comune di Trieste. A Basovizza da tempo un gruppo di residenti contesta l'orario anticipato della sveglia matutina, 2 minuti e 58 secondi di scampanio, il limite sono i 3 minuti, alle 6 e 30 e ultimo rintocco alle 22. A Santa Croce è situazione simile, con segnalazioni di campani in azione in taluni casi anche sino alle 23. Anche in questo caso non manca chi invece affezionato alle tradizioni contadine non vuole veder limitato lo scampanio, ma il progressivo cambiamento dei residenti anche sul Carso impone, secondo il vicario episcopale, uno sforzo votato al compromesso. È necessario trovare una mediazione, questo sì, pretendere di non suonare le campane non è giusto e il pretendere che gli altri subiscano gli orari che la tradizione ci ha tramadato anche questo non è giusto. Bisogna trovare una mediazione e un dialogo.